Ciao a tutti, oggi prepariamo un tiramisu, quindi vediamo gli ingredienti e come possiamo farlo. Utilizzeremo 4 ucci, 8 spettacoli di zucchero, 2 spettacoli di coca, 2 macchine di coffe, 200 grammi di biscotti pavessini e 500 grammi di mascarpone. Prima di tutto spettacoliamo il bianco. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, 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 grazie a tutti. Ora facciamo lo stesso con il yoke, ma prima di aggiungiamo il zucchero. Grazie a tutti. 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 E ora andremo a dipendere i nostri biscotti nel caffè E ora andremo a coprire il nostro caffè Dopo mettere la crema e ancora il biscotti, il biscotti e il biscotti e in fine la crema Ma prima cosa voglio fare un piccolo per la testa Perché il più grande lo porto ai miei amici Ora lo mettiamo nel friggio per 1-2 ore E dopo la testiamo Perché il più grande tiramisù lo porteremo ai nostri amici Perché il più grande lo porto ai miei amici Per un'altra'altra Questa è un'altra'altra Usa un'altra una E' un'altra'altra E' un'altra'altra Grazie a tutti. E completiamo con la piazza coca, dopo che mettiamo in friggio. Spettacolare! Very, very yummy. So guys, see you next time. Remember to subscribe to the channel and to share this video with your friends. Bye bye! Grazie a tutti.